ciao 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 siamo comodissimi ma perché gli ascoltatori non lo sanno ma stiamo riprendendo ciò che sta succedendo ma non l'abbiamo mai fatto però così per giocare si può fare anche questo ci siamo formati e abbiamo deciso che volevamo suonare in una band no ci siamo formati circa nel 2002 prima eravamo in quattro poi nel 2007 diciamo nel periodo in cui stava per uscire il nostro primo disco come il finger don't panic organic in quel periodo il quarto elemento se n'è andato un tipo strano un'astista e quindi imprevedibile e se n'è andato ma siamo rimasti in tre abbiamo fatto il tour di don't panic organic noi ovviamente suonavamo da tanti anni ma siamo un gruppo che ci ha messo un po' a ingranare abbiamo fatto tutto il tour di don't panic organic nonostante l'album fosse stato scritto e registrato in quattro in tre abbiamo fatto l'esperienza più grossa live dall'inizio perché abbiamo suonato dappertutto in Italia quell'anno 2008 non so abbiamo suonato praticamente da Milano fino a Palermo comunque abbiamo suonato abbastanza tanto non so abbiamo suonato non so abbiamo suonato